Lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della Verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché Egli rimane presso di voi, e sarà in voi. Non vi lascerò, orfani, verrò da voi. Ancora un poco, e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo, e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi». Pace bene, amici, e ben ritrovati in questo giorno di Pentecoste, secondo il rito ambrosiano, come sempre. È la festa dello Spirito Santo. Pentecoste vuol dire cinquantesimo giorno dopo la Pasqua di Gesù. Una festa, una solennità che è alla pari con il Natale e con la Pasqua. Che cosa celebriamo in questa giornata? Adoriamo, veneriamo, celebriamo il mistero dello Spirito Santo, che è la terza persona della Trinità. È difficile penetrare il mistero dello Spirito che Gesù dice e lo paragona al vento, che non si sa bene da dove provenga e dove vada. È difficile capire la persona dello Spirito, come è misteriosa anche la persona del Padre e del Figlio. Possiamo comunque evidenziare quelle che sono le operazioni dello Spirito, vale dire il suo modo di agire nella storia. Una delle quali la raccogliamo dal Vangelo odierno. È un altro Consolatore. Vi manderò un altro Consolatore. Il primo Consolatore è Gesù, l'altro Consolatore, lo Spirito Santo, è il suo Spirito che si affonde a partire dalla croce, quando reclinato il capo, spirò e mise il suo Spirito. È il Consolatore, è colui che consola, che rende meno faticoso il cammino nella vita, anche nella solitudine. È colui che è con la persona sola, con ciascuno di noi, che siamo un po' tutti quanti soli, anche se stretti da tutte le parti. Un'altra espressione che troviamo sulla bocca di Gesù che riguarda lo Spirito, lui lo denomina Spirito di verità, con lui che conduce alla pienezza della verità. E dentro le situazioni odierne di una società molto complessa, pluriculturale, plurireligiosa, pluritutto, ecco, è difficile alcune volte discernere e capire da che parte sta la verità. Allora lo dobbiamo invocare, perché ci aiuti a fare discernimento e stare dalla parte giusta, seguendo sempre la verità che è Gesù Cristo. E un'altra funzione dello Spirito Santo, sempre lo raccogliamo dai Vengeli, dalla bocca di Gesù Cristo, è colui che farà ricordare, vi farà ricordare ogni cosa. Ho ancora tante cose da dirvi, ma non siete ancora in grado di capirle. Ecco, lo Spirito Santo vi condurrà alla pienezza della verità e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. E abbiamo bisogno, anche questo, di ricordare le grazie e i doni ricevuti da Dio nella nostra storia, nella storia della Chiesa, per poter riprendere coraggio e la forza che scaturisce dallo Spirito Santo. Pace bene, amici, e buona Domenica nello Spirito a tutti quanti voi. Pace bene, amici, e buona Domenica,